3 settembre 2021 e inizio la mia avventura Erasmus è arrivato il momento fatidico delle valigie ebbene sì dopo mesi e mesi di carte, moduli da compilare e cose varie domani finalmente partirò per il mio Erasmus di 6 mesi in Spagna non è facile preparare la valigia per 6 mesi, non sono mai stato via così tanto adesso ho iniziato a tirare fuori un po' di cose, sto capendo cosa conviene portare via e cosa no perché ho 3 bagagli, un bagaglio da stiva, un bagaglio a mano che è uno zaino, una sacca che avrò sulle spalle più lo zaino normale di tutti i giorni ovviamente tra le cose essenziali da portarmi via, la racchetta non so se riuscirò a giocare però me la porto via lo stesso tanto in qualche modo la incastro dentro una valigia da stiva buonas! sono passati un po' di giorni dagli ultimi video perché l'arrivo è stato tutto un casino abbiamo dovuto pulire la casa perché è bella ma era un po' onta quindi abbiamo pulito armadi, robe varie, elettrodomestici ho sistemato la camera, ho messo giù tutte le cose e poi abbiamo un po' scoperto la città capito cosa c'era in giro, cosa fare e tutte le varie cose, tram, mezzi pubblici e cose del genere abbiamo camminato 30 km al giorno per un bel po' di giorni, infatti ho le gambe tutte indolenzite e adesso per non bastare, visto che devo andare a fare un giro, vi porto a vedere questa enorme metropoli Fuego! Fuego! Manténlo prendido! Fuego! No lo dejes apagar y grita! Fuego! Manténlo prendido! Fuego! No lo dejes apagar y grita! No lo dejes apagar y grita! No lo dejes apagar y grita! Fuego! Manténlo prendido! Fuego! No lo dejes apagar y grita! Fuego! Manténlo prendido! Fuego! No lo dejes apagar y aquí viene bomba estereo, viene con to' champetta, reggae music, un beat folklore, come on! Que su poder es una bomba atómica, un poco de porto con musica electrónica, sigue, sigue prendiendo el...